Musica Ricorre oggi 28 aprile l'anniversario di Sardinia, il giorno della Sardegna, una festività istituita dal Consiglio regionale Sardo nel 1993, un grido di libertà che rafforza la volontà di continuare per costruire partecipazione, qualità e relazioni interpersonali. In questa giornata, nel 1794, il vicere Baliano e i piemontesi che governavano il territorio sardo vennero definitivamente allontanati da Cagliari. Le cause sono molteplici, prima tra queste il rifiuto del vicere di concedere l'autonomia decisionale al popolo sardo in ambito civile e militare. Il mancato riconoscimento del merito al popolo sardo della sconfitta della Francia nel 1793. Una flotta francese aveva tentato di impadronirsi dell'isola, sbarcando a Carloforte e insistendo successivamente anche a Cagliari. I sardi però opposero resistenza con ogni mezzo in difesa della loro terra e dei piemontesi che dominavano allora in Sardegna. Questa resistenza ai francesi aveva entusiasmato gli animi, perciò ci si aspettava un riconoscimento e una ricompensa dal governo Sabaudo per la fedeltà dimostrata alla Corona. Una giornata mai come oggi attuale e carica di significato. È l'occasione più vera, solenne e importante per ricordare, celebrare, festeggiare il legame intimo e profondo che nella storia ha unito e ancora oggi unisce i sardi alla propria terra. Sino alle 12 di sabato 29 aprile potranno presentarsi le liste per le elezioni comunali del 28 e 29 maggio prossimi. Nell'Uristanese sono chiamati alle urne gli elettori dei comuni di Halles, Boronedo, Cabras, Milis, Modolo, Narbolia, Nughe di Santa Vittoria, Pompo, Simala, Soddi, Villa Verde e Villanova Truschedu. Circa 14.000 gli elettori chiamati alle urne, ma non si attendono indicazioni di natura politica tranne per le elezioni di Cabras, dove a fronteggiarsi saranno la lista del centro-destra guidata dall'imprenditore agricolo Gianni Meli e la civica cappeggiata dal sindaco uscente Andrea Abis. Nel centro lagunare la sorpresa più eclatante è stata la decisione del Partito Democratico che addirittura d'arrivo ha deciso di non presentare più la lista che doveva essere cappeggiata dall'ex sindaco Pasquale Castangia. Il Partito Democratico lascia i suoi elettori ampia libertà di scelta non prima di considerare inadeguati i due candidati sindaco. Intanto il sindaco uscente Andrea Abis ha ufficializzato la sua lista a scendere in campo la quasi totalità dei consiglieri e assessori uscenti. Questa la lista Enrica Canu, Carlo Carta, Laura Celletti, Anna Paola Kergia, Paola De Jala, Enrico Giordano, Marco Magia, Gianluca Mele, Marina Pau, Alessandra Pinna, Federica Pinna, Francesco Pinna, Federica Piras, Nicola Poddi, Ferdinando Secchi, Carlo Trincas, candidato sindaco, Andrea Abis. La celebrazione della giornata mondiale dedicata ai morti sul lavoro e alle vittime dell'amianto si è svolta a Oristano su iniziativa del Comune d'Oristano e dell'associazione regionale Ex Esposti a Mianto. La cerimonia si è svolta alla rotonda di Via Petri nei pressi della prefettura dove l'anno scorso a giugno era stata installata una statua in ricordo dei lavoratori morti per l'esposizione all'amianto. Secondo i dati diffusi dall'Ona, l'Osservatorio Nazionale Amianto nel 2022 a causa di malattie amianto correlate sono morte 7.000 persone mentre altre 10.000 si sono ammalate sempre a causa dell'esposizione alla sostanza. In Italia sarebbero infatti presenti 40 milioni di tonnellate di amianto ancora da smaltire. Questa giornata ci ricorda la più importante battaglia di civiltà in materia di diritto alla salute e tutela dell'ambiente e per un lavoro in sicurezza. Battaglia che ha portato alla chiusura delle fabbriche e al blocco dell'estrazione e commercializzazione della fibra di amianto attraverso la legge nazionale 257 del 1992. Era evidente che i lavori avviati per rimodulare la piazza Manno con il seguito di sbarramenti ed i vieti creassero dei problemi non solo per il traffico che ha subito penalizzanti deviazioni ma più in generale per tutte le attività commerciali che sono ubicate nella piazza e nelle vie adiacenti. Una penalizzazione destinata a durare sino alla fine dell'anno posto che i lavori proseguano in maniera lineare e senza rilievi che come già osservato possono discendere dal ritrovamento di resti risalenti al periodo giudicale. È quasi certo che questo avverrà come già rilevato nel recente passato con l'utilizzo del georadar e a questo proposito andrebbe verificato se prima dell'avvio del cantiere è stata eseguita una mappatura del sottosuolo per accertare consistenza e dimensioni di reperti e strutture celate nel sottosuolo e questo per evitare sorprese in corso d'opera. Tre compagini ai blocchi di partenza si sfideranno alla fine di maggio alla conquista dell'amministrazione comunale. La maggioranza uscente quasi senza soluzione di continuità se si eccettua l'uscita di due attuali assessori Mariano Meloni e Filomena Colleo ed un paio di consiglieri non senza qualche mal di pancia ripresenta la compagine attuale con Rossana Ledda in testa salvo sorprese all'ultimo minuto. Sarà candidato come consigliere anche il sindaco uscente Antonio Succu che avendo maturato due legislature non può più ricoprire la carica di primo cittadino. In compenso si aggiungono rappresentanti del mondo cattolico come Monica Tolu o Gina Falchi e qualche imprenditore come Umberto Guiso. Senza molte sorprese la lista presentata da Riccardo Uda già sindaco dal 2008 al 2013 che presenta una civica ma comercivica che riprende quasi tutto l'elenco dei consiglieri che nella scorsa legislatura si erano a turno dimessi per protesta. La lista è una civica che rappresenta tutte le colorazioni politiche dalla destra all'estrema sinistra. La novità è la terza compagine che si definisce rigorosamente civica ma comer 20-30 che vede candidato sindaco il giovane Luca Pirisi 35 anni economista. Nella lista sono presenti 9 donne, 7 consiglieri sotto i 40 anni e 3 sotto i 20 con una connotazione giovanile di rinnovamento. Sono tuttavia presenti candidati con ruoli nell'imprenditoria come Lorenzo Sanna, direttore della FOIA e vicepresidente di Confindustria, rappresentanti della cultura come Ricciana Uda o dell'arte come Rossana Cossu dell'Ettrice di Coro e Valeria Tolu, ceramista. Per la prima volta poi si presenta una esponente dei nuovi italiani, Sara Bicri, proveniente dalla comunità marocchina. Non si presenta invece il Movimento 5 Stelle che pure alle ultime elezioni politiche era il secondo partito in città dopo il centrodestra e aveva un rappresentante nello scorso consiglio. Il compito che aspetta la lista che vincerà non è dei più facili. La città attraversa un momento difficile con una crisi economica non ancora superata e questioni non risolte come la sopravvivenza del consorzio industriale o l'abbandono di molti servizi, compresa la crisi della sanità. Un'occasione di confronto con i professionisti di riferimento del mercato del lavoro per affrontare le criticità e trovare le soluzioni utili alla costruzione di un mondo del lavoro nuovo, più equo e con più opportunità per tutti. Un mercato del lavoro con leggi e regolamenti più semplici. Occorre semplificare la pubblica amministrazione per fare bene alle imprese perché la governance deve essere sempre più a servizio del cittadino. Così l'assessore regionale del lavoro Adalai è intervenuto al convegno regionale dell'ordine dei consulenti del lavoro tenutosi all'hotel di Cagliari alla presenza della ministra del lavoro Marina Calderone. 15.000 euro ai comuni per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla costituzione di comunità energetiche da fonti rinnovabili con priorità ai comuni privi della rete del metano e in base al numero degli abitanti. È quanto stabilito dall'ultima delibera in materia di comunità energetiche rinnovabili approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'industria Anita Pili. Le risorse stanziate con la legge regionali numero 22 dello scorso dicembre ammontano a 2 milioni per la normalità 2023 e altre tanti per quella 2024 ad integrazione delle risorse che arriveranno dal piano nazionale di ripresa e resilienza. L'assessorato dell'agricoltura ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno e pagamento relative alla misura 2 servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, intervento, sostegno allo scopo di aiutare gli avventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza del programma di sviluppo rurale. Sul sito web del Servizio Civile dei Comuni sono pubblicate le graduatorie delle selezioni relative al Bando 2022 di Servizio Civile Universale. La pubblicazione delle graduatorie, come stabilito dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, deve avvenire in attuazione il principio della minimizzazione dei dati trattati. Pertanto le graduatorie non riportano il nominativo di ogni candidato, ma il numero identificativo della domanda di partecipazione, rivenibile in alto a sinistra della domanda. La data di avvio dei volontari è prevista per mercoledì 25 maggio e sarà comunicata ai candidati idoni e selezionati via e-mail. In provincia d'Oristano, da martedì 2 maggio, saranno in pagamento le pensioni del mese. è possibile ritirare la pensione nei 75 uffici postali e nei 41 postamat della provincia.